Dimensione Carne, azienda di Piove di Sacco, provincia di Padua, quest'anno osa partecipare al Cibus per presentare la linea dei suoi prodotti, sono prodotti nei quali noi crediamo, sui quali noi puntiamo. Qui al Cibus abbiamo portato uno dei nostri fiori all'occhiello, la nostra carne affumicata di cavallo, che è il prodotto sul quale noi abbiamo sempre creduto e continuiamo a crederci. Abbiamo deciso di affiancarle un prodotto nuovo, che è una coscia di puledro interamente affumicata a legna. È un prodotto particolare, curioso, buono. Oltre a questo abbiamo portato un salame di asino fatto con carne di asino nazionale, di conseguenza un prodotto al target molto alto. Abbiamo affiancato anche un magatello di bovino al Marsala, fatto con carni di animali femmine, di scottona, esclusivamente nazionale. È un altro di quei prodotti in cui noi crediamo e vorremmo portare sulle tavole dei nostri italiani e anche i non italiani. È un prodotto veramente eccezionale. I nostri prodotti sono semplici, sani, genuini. Si presentano bene sia per fare degli antipasti, per fare degli aperitivi importanti. Soprattutto vengono amati da tutti, grandi, piccini, giovani, meno giovani, proprio per la loro trasparenza, per la loro genuinità. Grazie mille!